Ciao a tutti ragazzi sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Scusatemi se mi sentirete con una voce un po' particolare però col cambio di stagione subito ho preso il mar di gola E ho preso ovviamente c'ho anche il naso tappato quindi mi sentirete con una voce più piovattata del solito Comunque oggi voglio presentare 7C tradotto e portato in Italia dalla Need Games Che io ringrazio veramente di cuore ragazzi grazie di avermene fornito una copia per la recensione Sia di questo che di The Witcher che sarà praticamente il GDR che seguirà E vi ringrazio di cuore davvero ragazzi per avermi dato la fiducia e spero che da questa collaborazione ne possa venire fuori qualcosa di duraturo Quindi Need Games ve l'ho già detto anche su Facebook onoratissimo e grazie di cuore tra l'altro giochi magnifici e stupendi Ma ne parleremo alla fine nel voto finale, nella conclusione finale E poi lanciato sul grande mercato quindi messo in vendita da Asmode Italia che anche loro ringrazio e saluto ancora una volta Di questo gioco ne avevo sentito parlare tanti anni fa perché questa è una nuova edizione E nuova edizione che ho messo qui davanti col D10 perché se non erro nel 2004 venne fatta l'edizione col D10 che è poi il regolamento di questo qui E successivamente ne venne fatta una variante col D20 quindi forse qualcosa che si avvicinava leggermente di più a Dungeons & Dragons e cose del genere Ma questa edizione che vi presento oggi utilizza come quella vecchia il dado da 10 quindi comunque questo è l'unico dado che andate a tirare E l'ambientazione è piratesca ovviamente come potete vedere dal disegno e viene chiamata infatti in gergo cappa e spada Quindi è il classico gioco insomma di ambientazione piratesca, marinaresca e cose del genere Che ricorda molto, rimanda a film come Pirati dei Caraibi, Master and Commander e film del genere Però questo gioco per me è il giusto miscuglio fra un Pirati dei Caraibi e un'ambientazione magari anche un pochino più cupa se vogliamo Perché hanno praticamente la mappa del gioco che vi farò vedere è quella dell'Europa Quindi non è ambientato nei Caraibi, cosa che inizialmente mi aveva fatto un po' strano, vi dico la verità perché preferivo molto di più Le due ambientazioni che preferisco del tempo dei Pirati e dell'Age of Sail dal 1600 al 1700, quasi fino a un fondo Sono o la rotta della Compagnia delle Indie, quindi le Indie orientali e cose del genere ma soprattutto i Caraibi Quindi Cuba, tutta la parte del Nuovo Messico e cose del genere Chi avrei preferito rivedere anche in questa ambientazione qui E invece prende la nostra Europa, ovviamente rivista in chiave fantasy E la mappa appena ve la farò vedere direte subito no, questa è l'Europa nostra Perché praticamente è quasi uguale, ma infatti il gioco è ispiratissimo Ed è diviso in varie nazioni che poi ricordano la Russia dell'epoca, la Spagna dell'epoca, la Francia dell'epoca Sempre nell'Age of Sail, l'Inghilterra che qui viene chiamata Avalon, ci sta E l'Italia ovviamente, il regno dei mercanti italiano che viene chiamata invece Vodace Come ambientazione è bella, è fatta bene Non mi ha fatto impazzire, vi dico la verità, ma perché poi le conclusioni ve le farò alla fine Però come ambientazione comunque è bellissima, ci sta veramente di cuore Molto 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 bella e ti cicala nel personaggio Ma quello che mi è piaciuto di questo regolamento è che è alla rovescia Questo è alla rovescia due volte, no una Questo è un GDR capovolto In tutti i giochi di ruolo, aperto il manuale, trovate le regole di gioco Poi dopo trovate l'ambientazione e poi la guida del Dungeon Master Si è compresa nello stesso manuale e non in un secondo manuale In questo è alla rovescia Le prime 130 pagine sono d'ambientazione Cioè una rizza a... infatti ho aperto il manuale e ho detto Ma è un gioco di ruolo o un romanzo? Le prime 100... no 140, no se il genere sono tutte d'ambientazione Poi dopo ci sono tipo 30 pagine di regolamento Pochissime perché è facilissimo questo gioco È tutto buttato sul narrativo Voto maggiore per quanto mi riguarda Che io impazzisco con troppe regole E poi vabbè la parte del Dungeon Master che è altrettanto Nel frattempo qui c'è la gattina Guardi su, faccio vedere C'è la gattina Morgana che vi saluta Ciao, compratelo che è un gioco bellissimo Ciao, ciao, ciao Via E quindi vi dicevo Gioco manuale capovolto perché inizia Prima con la storia e con l'ambientazione e dopo con il regolamento E capovolto due volte come vi dicevo prima Perché in qualsiasi gioco di ruolo Il Dungeon Master crea la storia Con la coda del gatto davanti è perfetta Il Dungeon... oh ragazzi la gattina ci si lascia, non si taglia Il Dungeon Master crea la storia E i giocatori si muovono nella storia creata dal Dungeon Master In questo gioco no Sono i giocatori che narrano Uno potrebbe dire, è possibile Sono i giocatori che narrano E il Dungeon Master fa la supervisione Quindi il Dungeon Master serve come arbitro Ti faccio un esempio Per quanto te sei lì narrando Io ti posso dire che sei dentro una torre senza finestre Te non è perché hai la facoltà come giocatore o gruppo di narrare Che mi puoi dire, ok, mi butto dalla finestra Se ti ho detto che le finestre non ci sono Ovviamente il Dungeon Master è l'ultimo Quello ad avere l'ultima parola Però diciamo che sono i giocatori a narrare la storia E il Dungeon Master che fa di contorno E ti crea l'ambiente E ti dice cosa si può fare effettivamente Cosa è console e cosa no E quindi un gioco che ha una regola soltanto Voi dovete tirare di 10 Che siano pari a quello che andate a descrivere Ed è un'altra cosa che io amo veramente Alla follia di questo gioco E spero questo regolamento di vedere altre volte Ad esempio Siamo dentro una torre Ad esempio che ci fa il manuale C'è una finestra C'è un grosso candelabro Attaccato al soffitto Con tutte le candele attaccate sopra E ovviamente la stanza sta bruciando Perché i mobili e tutto è fatto di legno Quindi in un GDR classico Il Dungeon Master vi dice Entrate in questa stanza che sta prendendo fuoco L'unica via di fuga Vabbè ma magari ce ne sono due La porticina in fondo di legno Però in spessa quercia E la finestra Tranquillamente senza scuri di legno e niente Che potete sfondare per uscire Fatemi tutti quanti un tiro di agilità Ok? Per evitare le fiamme Più che ne so un tiro di resistenza Per resistere allustioni Una cavolata così Qui no Qui sono i giocatori che vi diranno Cosa faranno E il Dungeon Master dirà Quali daddi devono tirare Ed è la cosa secondo me più rivoluzionaria Che non ho mai visto in nessun altro gioco Ad esempio Entriamo nella stanza Io provo a sfondare la porta in fondo Ok I tiri abilità Sono sempre 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 caratteristica più abilità Quindi provo a sfondare la porta in fondo Che ne so Forza Più Non me ne ricordo era tutte le abilità ragazzi Tipo sfondare o forza brutta No? Quindi guardo Quanti daddi ci ho In forza Quanti daddi ci ho in abilità E tirerò I di dieci Che ne so Fra una e l'altra C'ho dieci Cinque cinque Tiro dieci daddi da dieci Oppure E il Master ti fa Ok fai sto tiro Oppure semplicemente Boh Prova a sfondare la finestra Oppure prova a prendere Boh una razza Una coperta Qualcosa E provare a spengere le fiamme Sarà sempre Il Dungeon Master Non vi dirà mai Che prova dovete fare Mai Nemmeno una volta Che ne so Sta scendendo il soffitto Di una stanza E vi sta per schiacciare Che prova vorrei fare Sarà una prova di agilità Per vedere se si riesce A sgattaiolare nel buo Per usci Invece no Voi dovete sempre Attendere Le istruzioni Del gruppo dei giocatori E poi direte Ok ti tiri questo e questo Ti tiri questo e quest'altro E così via E quindi un gioco Che al Centonovanta Virgola cinque Per cento Si basa tutto Sulla narrativa Ed è una cosa che adoro Perché anni fa Con un mio amico Con Luca Exeter Anni fa Come passa il tempo Quasi vent'anni fa Diciotta anni fa Per esattezza Su un forum Creammo il Rank system Che era un regolamento Magari qualche volta Poi glielo propongo O a weirdo A qualcuno Scherzo ovviamente Era un sistema Si fece proprio manuale Per giocare via forum Senza l'utilizzo Né di un dungeon master Né di tiri di dado Praticamente a seconda Del grado Che avevi nell'abilità Si andava a fare un paragone Col grado abilità Dell'avversario Più come era descritta La scena Per avere punti bonus E si vedeva chi Vinceva o perdeva Era molto buttato Sulla narrativa E mi sembra veramente Qualcosa che assomigli A questo manuale Di 7C Che ora vi vado A far vedere Spostiamoci Il manuale Ragazzi è bellissimo 7C Guardate che figata I colori sono bellissimi E Need Games Proprio come la Weird Edizioni Fanno dei lavori Di Localizzazione E impaginazione Delle versioni Tradotte in italiano Che fanno Veramente paura Addirittura Sul GDR di The Witcher Che è il prossimo Che vi farò vedere La Need Games Non solo ha tradotto Dalla versione in inglese Ma ha aggiunto anche nuove cose Ha cambiato la grafica Disegni Layout Quindi il lavoro è disumano E come vedete Quassù è stato eletto Il gioco dell'anno 2017 E vi assicuro Che a fine di questa recensione Vedrete che questo titolo Se la merita assolutamente Comunque Aprendolo Vedete che c'è La mappa Dell'ambientazione Che Ragazzi Ditemi Ora A parte che tutto Un supercontinente Pare di buono Una pangea Tutta messa insieme Però Ditevi se veramente Non è la nostra Europa Anche per come divisa Dei continenti Appunto Qui si va Nell'Age of Sale Quindi 1600 1700 E cose del genere Comunque Avalon È l'Inghilterra Le islands Le marche delle islands Sono la Scozia Innismore È l'Irlanda Per poi passare A Montagne Che è la Francia Che vedete È spostata Più verso Ovest Rispetto A dove dovrebbe essere La Spagna Dovrebbe essere Più su Comunque c'è La Francia Montagne Castiglia È la nazione Della chiesa Del Vaticino Ed è ovviamente Tipo la Spagna Vodace È l'Italia Per farvi capire Non so perché L'ha dato sto nome Comunque È rappresentata Veramente molto bene Per poi passare A quella che sembra Essere tipo la Scandinavia E l'ussura Che è tipo la Russia E poi ci sono ovviamente C'è la confederazione Samartiana Che invece È una confederazione Libra Dove tutti gli uomini Hanno lo stesso diritto Non ci sono nobili Tutti quanti hanno diritto Di voto Insomma la classica Nazione democratica Ma allo stesso tempo Utopica E poi i sette mari Che vedete Descritti qui intorno Quindi L'ambientazione ragazzi È quella Della nostra Europa Sono cambiati i nomi Però va sicuro Le usanze Sono le stesse Tipo Castiglia La Spagna È quella che ha fondato La chiesa Del Vaticinio Che sembra quasi Il Vaticano E tra l'altro La sede della chiesa È ovviamente Quaggiù a Castiglia E in più Hanno i più grandi Inquisitori Perché in questo gioco C'è la magia Però l'inquisizione Dalla caccia maghi Un po' come abbiamo visto In tantissime ambientazioni Come ad esempio Di Witcher E li mettono a rogo Montagne È la patria Del re sole Allo stesso tempo Dell'arte Della musica E È Il re Il re sole Si è fatto ribattezzare Imperatore E comanda Addirittura qui c'è Il più grosso divario Fra nobili E plebei Perché la nobiltà Come in Francia Dell'epoca Avevano ricchezze E tutto quanto I contadini invece Magari morivano di fame Vodace Non è governata Da nessun regente Monarco Cosa del genere Ma è divisa In sette stati E in questi sette stati Praticamente sono Per ognuno Un principe mercante Che è detta La loro legge Quindi Vodace È una zona Di commercio Ussura Che è la Russia Ci sono lo Zar E la Zarina Insomma ragazzi E Aizen È tipo la Germania Dell'epoca Quindi cambiano un po' I nomi E tutto quanto Però l'ambientazione Io me la so letta tutta 140 pagine Perché mi è piaciuta La morire Ma tranquillamente Potete darci Una lettura veloce E sarà lo stesso Cambia qualche nome Cambia qualcosa Però addirittura Anche le monete Per quanto La moneta principale Dettata appunto Da Dall'impero Quella che poi è La Svezia Sia cambiata C'è una moneta unica Che muove Tutta l'economia del gioco Addirittura Quella che sembra essere La Germania Aizen Aizen Aveva il marco Per farvi un esempio Castiglie Che la Spagna Avevano i dobloni E così via Il capitolo 2 Parla di Thea Che Thea È il nome dell'ambientazione Quindi di Ci sono anche regioni Fuori Da quella che si è messa La nostra ropa Cioè ad esempio L'impero della mezzaluna Però questo sarà Materiale per altre espansioni Per ora voi Giocherete Ammetterete le vostre avventure Quaggiù E poi ci sarà anche Una parte Caraibi Cose del genere Che io non vedo l'ora di giocare Quindi Thea È l'ambientazione Vi fa vedere la mappa Tra l'altro bella Me la voglio stampare E mettere un quadretto Perché sembra proprio Una mappa Delle navigazioni dell'epoca Quindi veramente Molto caratteristiche E fatte bene E qui ci fa vedere Tutti quanti Gli esempi Le culture I nomi Di ogni popolo Le usanze Quindi dettagliatissimo Il reggente Il monarca Tipi di mostri Che infestano queste zone E quant'altro E guardate là Andando avanti Ancora si parla di ambientazione Andando avanti Ancora Queste sono i vodacce Ad esempio gli italiani E che sono più assassini E cose del genere E ancora si va avanti Si va avanti Si va avanti Fino Guardate là quante pagine Di ambientazione Fino ad arrivare Al capitolo 3 Che invece ci spiega Come giocare E anche questo disegno qui Ragazzi Se non è pauroso Guardate là Cioè La mano Cioè Sembra quasi Larry Elmore Cioè guardate là Che disegni spettacolari Che ti calano veramente Tanto nell'ambientazione E da qui in poi Si va a creare il personaggio Ci sono vari step Perché questo gioco Ha delle regole particolari E basandosi sulla narrazione Dovevano creare Anche appunto Un regolamento Che girasse intorno A questo mondo qui Quindi Dovete scegliere La vostra nazione Quindi Avalon Vodacce Ussura La Repubblica Sarmatiana E tutte le altre Tra l'altro Anche le eraldiche Sono bellissime Una volta scelta La nazione Il vostro personaggio Avrà bonus O malus Quindi Scegliendo che ne so Avalon Potreste essere più bravi Nell'agilità E meno in qualcos'altro La nazione Non è soltanto una cosa Che scegliete così casualmente Ma vi dà anche Dei bonus particolari Quindi Andateli un po' a vedere Questo personaggio Tra l'altro Che lo chiamano Se non erro Il viandante senza nome L'uomo mascherato Una cosa del genere A Castiglia Combatte L'inquisizione È praticamente Lo zorro Di questa ambientazione qui Tra l'altro Spettacolare Con una maschera dorata E Il primo passo È scegliere Ovviamente La nazionalità Vedete Ussura Vi dà una descrizione E tutte le altre Scelte La nazionalità Verranno dati dei bonus Poi c'è la creazione Dell'eroe 8 passi Questi 8 passi Vi dicono Chi siete Perché Muovete il vostro personaggio Qual è la sua missione Il suo obiettivo Perché queste sono cose Che adoro da morire Perché quando si crea Il background Di un personaggio In qualsiasi altro GDR Si crea soltanto Per dare una storia Che poi il GM Potrebbe interagirci E crearti qualcosa Di alternativo Qui no La vostra storia La incontrerete nel gioco E la andrete a combattere Quindi quando create Il background Dovrà essere definito Perché sul vostro background Vi verranno dati I nuovi tratti I nuovi abilità Punti esperienza Ed altri Quindi il background È la parte Più importante Più delle caratteristiche Più di tutto Poi il concetto Del personaggio Cos'è uno schermidore È un fuciliere È un pirata È un cortigiano Che cos'è Cioè uno studioso Qualunque cosa sia Il vostro personaggio Qui lo dovete definire Per poi arrivare All'inizio Alla creazione del personaggio Dove ci sono 5 caratteristiche principali In questo gioco Dove inizialmente Partiranno tutte Con un punteggio di 2 E non potranno mai Superare il valore Di 5 Quindi partano a 2 E arrivano massimo a 5 All'inizio ci dovete spendere 10 punti esperienza E le potete alzare come volete Quindi come detto Dovranno essere di partenza Tutte minimo di 2 Potranno arrivare Fino a 5 Però vi ricordo Che il punteggio globale Di tutte le caratteristiche Messe insieme Non deve mai Superare il valore Complessivo di 15 Quindi se ce ne avete Già 3 A livello 5 Non lo potete fare Perché ne avreste Altri 2 Di livello 2 3 per 5 15 Più 4 Andreste a 19 Quindi andreste a sfondare Il Punteggio totale Che potete avere Nei tratti Quindi Creato il personaggio Fatti i tratti Si va avanti E il gioco ci fa scegliere Intanto ci dà Ovviamente la descrizione E delle abilità Ci sono delle abilità Nel gioco Che non sono tantissime Anche qui sono tipo Una quindicina 20 Qualcosa del genere E andiamo a vedere Le abilità In più All'inizio Il background Lo dobbiamo scegliere Duplice Che il background Ci dice Chi è il nostro personaggio E dovete sceglierne due Ovviamente non potete scegliere Due volte lo stesso Per avere più bonus Che ne so Il mio personaggio È un archeologo E un assassino Andate a leggere Cosa c'è scritto sotto E prendete tutte quante Le abilità Segnate E ve le segnate Sulla scheda Più ovviamente I vantaggi I vantaggi sono quelli Sono tipo i talenti Quello che dà la possanza All'eroe Oppure il mio personaggio Boh non lo so È un assassino Ma un dottore Così che sia uno tipo Jack lo squartatore Che va a colpire Nel punto giusto Però magari Il suo lavoro principale Era quello di essere dottore Preciso subito E in questo gioco Non si possono Poi Non si possono Ognuno Ogni game master Fa quello che gli pare Gioco è divertimento Ma di regola Non si possono interpretare I personaggi malvagi Voi siete gli eroi Dell'avventura E dell'ambientazione Le abilità Dovete scegliere Le abilità che avete Metterci dei punti Che avete di partenza Nell'abilità E ricordatevi Che le abilità di partenza Non possono superare Il grado 3 Ok Quindi non potete Arzarla a livello Grado 4 Grado 5 Di partenza Ma solo di partenza Quando create il PG Dopo si Possono anche arrivare A livello 6 Non possono andare Più del livello 3 Le abilità che avete Di partenza Sono quelle che vi danno I due background E tutte le abilità Che vi danno I due background Hanno già grado 1 Che non le mettete Nel conteggio Quindi avete quelle E in più ci avete 10 punti da spenderci Per alzarle un po' Come volete Di partenza Massimo a grado 3 Se quelle che ci avete Di partenza Non vi garbano E volete prendere Delle altre Potete sempre Comprarne delle altre Ci potete spendere Massimo Da 1 a 3 punti Quindi che ne so Prendo istruzione Ci posso spendere 3 punti Per farvi un esempio La porto subito A grado 3 Poi ci sono I vantaggi Ovviamente Da un punto Perché il vostro personaggio Dovrà avere dei vantaggi Che sono sia quelli Che sono segnati Nella scheda all'inizio Che altri che potete comprare Perché all'inizio Della vostra Creazione del personaggio Avrete 5 punti Vantaggi Da spendere Questi punti Vantaggi Li potete spendere O in quelli Che già avete O in altri Da acquistare Che vanno Da grado 1 A grado 5 Nei vantaggi Vedete che ci sono Dei simboli Di solito Che sono tipo Una K E uno meno Un vantaggio Col simbolo dell'omino Vuol dire Che lo potete scegliere Solo alla creazione Del personaggio Quindi ad esempio Se volete prendere Questo qui Lo dovete prendere subito Non lo potrete acquistare Più avanti Nell'avventura Sono tratti di partenza Quelli che invece Hanno una K così Vuol dire che Per essere utilizzati Dovete usare Un punto eroe I punti eroe Sono quelli Che potete utilizzare Durante l'avventura Per tirare più dadi Per modificare una scena O cose del genere Sono quelli Che danno la possanza Al vostro personaggio E gli permettono Di fare azioni Fuori dal comune Poi ovviamente Vi fa vedere Pagina che parla Di tratti Capitolo che parla Di tratti Abilità E di come utilizzarli E poi ovviamente Dulcis in fundo Ci sono fallimenti Prove critiche E la magia Che la magia Un altro capitolo a parte È molto importante Per quanto la magia In questo gioco Da una parte Mi garba E da una parte no Cioè Non mi piace L'idea di vedere Un tizio Che ti spara Con un archibugio O un'arma del genere Dell'epoca del 1700 E ti devi vedere Che magari Usi un teletrasporti E scappi Oppure magari Semplicemente Vedere un pirata Che si trasforma In un topo Per scappare via Però alla fin fine Ci sta In un'ambientazione del genere Quello che c'è Invece di bello È che la magia In questo gioco Non è Dungeon and Dragons Palle di fuoco O tempeste di fulmine No È tutta quanta magia elementale Per quanto cambia Da nazione a nazione Ad esempio Avalon Terra di re Non è la terra di re Artù Però per capire C'è quella lì Di misteri Intrighi Druide E tutto quanto Avalon Ha più una magia Del tipo druidico La storia del gioco È abbastanza semplice C'è stata una guerra disumana Quindi sembra quella dell'Europa C'è stata Questa guerra della croce Che sono un po' Appunto come le crociate Che hanno messo in crisi Tutta quanta Quest'ambientazione Qualche popolo Qualche nazione È uscita potente Qualche nazione è distrutta Vodace Con il commercio Ha incrementato Quelli che un tempo Erano i vichinghi Quindi la regione Che vi ho fatto vedere Che sembra la Svezia O la Norvegia È stata la Scandinavia È diventata più potente Non sono più Hanno coniato Una nuova moneta Che ora ha preso Tutto quanto il mercato E quindi sono i principali Mercanti Per assurdo Perché un tempo Era razziatori e pirati Del mondo La Francia Ve l'ho detto È l'impero del re sole Avalon È un gruppo di isole Tutto quanto E la Russia È quella messa Leggermente peggio Perché è quella Che ha assorbito Più danni durante la guerra Perché come nazione Più grande E piena zeppa Di risorse Tutti hanno provato A conquistare Ma sono stati fermati Dal grande inverno Un po' come l'avanzata Dei tedeschi In seconda guerra mondiale Insomma Che morirono tutti congelati I eseciti distrutti E in più nel mezzo Ovviamente ci sono nazioni Con un credo antico Quindi ogni nazione Ha la sua Credenza pagana E nazioni invece Votate Alla chiesa del Vaticinio Che è quella Di Castiglia Della Spagna Dell'Ambientazione Che manda i suoi inquisitori A cercare di distruggere E dissuadere Questi culti appunto Pagani E questa è l'ambientazione Del gioco Il regolamento ragazzi È tutto Come vi ho fatto vedere Sul tiro Dei D10 E questo regolamento Ha una cosa particolare Che da una parte è facile E da una parte per me È un pochino più complicato Per il Dungeon Master Perché D&D Fatemi Fammi la prova di forza Superata Fallita Fammi la prova di Boh non lo so Di tirare con l'arco Fatta Oppure persa Perché tanto c'è una difficoltà Che ti devi superare In questo gioco No Il giocatore tira Tutti 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 I dadi Che ha in mano Ovviamente tutti insieme E in questo gioco O vi comprate Uno sbotto di D10 Perché quando tirate 10 D10 Non potete tirare Tante volte lo stesso Perché il risultato Che viene fuori di uno Deve rimanere E ora vi dico il perché O se no Potete usarne anche meno Però prendete un foglio di carta Dove segnare Ma secondo me Si va a complicare Compratevi tipo Una ventina di dadi Da 10 E non avrete più problemi Tanto Tanto li volete pagare Nei negozi E Questo perché Perché facciamo conto Un personaggio A Non lo so Grazia A livello 3 Che è tipo l'agilità E combattimento in mischia Con la spada Potrebbe avere 3 Quindi 3 Più 3 6 Quindi vado a tirare 6 dadi da 10 E guardo i valori Che vengono sopra Non sono modificabili Quindi se viene un 4 Un 10 Un altro 10 Un 3 Un 2 Io devo sempre raggruppare Questi dadi Per formare dei 10 Ok Quindi se un dado Automaticamente Mi fa venire fuori 1 0 Che è un 10 Sul dado da 10 Vuol dire che questo Già un 10 Già un risultato E lo levo Se un altro dado Mi facesse venire Che ne so Un Vediamo un po' Un 6 Ok E l'altro dado sotto Che ho tirato Il terzo dado Mi fa un 4 Levo questo 6 e 4 Lo metto da parte E quindi mi formano E quindi mi formano Un 10 Quindi ho un incremento Un risultato E un secondo risultato Magari mi rimangono Boh Mi rimangono Un altro 6 Ok E poi mi rimane Un 8 6 più 8 Fa 14 Quindi ho fatto Automaticamente Un 10 E lo tolgo Però quei 4 punti In più vanno persi Non è che li potete Sommare ad altri E questa è la regola Del gioco Voi dovete Fare tanti 10 E ogni 10 Che farete Anche con la somma Dei dadi Però non le potete Modificare Non è che se Non dovete fare il conto Di quello che vi viene Se vi viene 30 Non è che fate Ah ho fatto 30 Quindi sono Cioè il complessivo La somma di tutti i dadi Facendo 30 O 3 incrementi No Dovete prendere i dadi E spostarli Ok Li spostate Li mettete da parte E come vi ho detto prima Un gioco narrativo Quindi il GM Vi potrebbe dire Ok in questa stanza Ci sono 3 sgherri Che vi puntano un fucile Una finestra Una porta da sfondare E la stanza Sta prendendo fuoco Ferma l'azione Non succede nient'altro Sono i giocatori Che dicano Cosa vogliono fare E il GM dirà Va bene Te per l'azione che vuoi fare Devi usare Movimento più grazia Te che vuoi sfondare la porta Devi usare Che ne so Vigore più sfondamento E cose varie I giocatori vanno a tirare Tutti i loro dadi A parte Li tolgono Questa è un'azione Che devono fare Solo i giocatori Il GM non ci può mettere in mano Quindi li tolgono i dadi Li mettono da parte Che ne so Giocatore A Ho fatto 3 10 In tutto Ok giocatore B Ne ha fatti 2 Giocatore C Ne ha fatti 5 Questi vanno anche sull'iniziativa Perché anche i nemici Tireranno i dadi Vedranno quanti 10 Sono riusciti a fare Venire fuori E a questo punto qui Si andrà a vedere L'iniziativa L'iniziativa è sempre Per chi ha fatto più risultati Quindi il giocatore Che ne ha fatti 2 Viene dopo Quello che ne ha fatti 3 Che a sua volta Viene dopo quello che ne ha fatti 5 E magari viene dopo L'NPC Il boss che ne ha fatti 6 Ok Quindi anche il livello di iniziativa Quello che agisce per primo Ti dice cosa farà Che ne so Attacco Oppure prova a disarmare Il mio avversario Oppure semplicemente Prova a fare uno sgambetto Le azioni devono sempre Essere legate A quelle che avete detto Di fare all'inizio Perché se no Potreste avere dei malus Se sono partito dicendo Mi voglio buttare Verso la finestra E scappare Buttarmi sotto In acqua Nel mare Però poi durante l'azione Voglio usare Uno dei miei risultati Per mentre corro Tiro una spallata In faccia a un nemico Per buttarlo per terra E aiutare Chi rimarrà dietro di me I miei compagni della squadra Il GM ti potrebbe dire Sì però Questa è un'azione diversa Perché non richiederà più Grazia e atletica Come per buttarsi alla finestra Ma richiederà vigore E coso Quindi ti devo dare un malus Nell'azione E si va avanti così Poi va a seconda L'iniziativa Il terzo e così via Quando tutte quante Le azioni sono state fatte Si vede come va a finire Il regolamento Come va a finire La giocata L'azione E poi si passa all'azione successiva Gli arcani Che ogni personaggio Ha un arcano Perché in questo gioco Come vi ho detto Siete eroi Ma poi ve lo dirò appunto Meglio Nella conclusione finale Poi tutti quanti I dati del personaggio I tratti del personaggio Vedete che vanno Fino a 5 massimo Le abilità Che anche questo Ho sbagliato prima È rettifico Anche le abilità Vanno massimo Fino a 5 Poi vedete Il background Ci dovete scrivere Il background I vantaggi E la cosa più importante Sono i punti ferita Cioè La scheda del personaggio È tutta una paginetta Così piccolina Quindi I vantaggi Scusate I punti ferita Del personaggio Sono sempre Pallini tondi E stelline I tondi Sono ferite lievi Ogni stellina Che raggiungerete Sarà sempre Un danno critico Quindi se in quell'azione Combattendo contro gli sgherri Avete subito 3 punti ferita 1, 2, 3 Le ferite lievi Non fanno niente Siete eroi Un tagliettino addosso A uno schermidore Non li fa niente Però magari Subendo altre due ferite Una sarà leggera E una grave Quando subite Una ferita grave Per assurdo Il vostro personaggio Combatte meglio di prima È una cosa strana Che dice Come sono ferito Mortalmente Combatto meglio Sì Perché hanno usato L'effetto John McClane Di trappola di cristallo Proprio c'è scritto Nel manuale Che quando l'eroe è ferito Diventa più attento Più agguerrito E ci sta Presta molta più attenzione A non fare più sbagli Quindi però Qui accanto Vedete cosa succede Con una ferita critica Prendete un dado bonus Quindi paradossalmente Combattete meglio Però con due Ferite critiche Invece date Date più due Dade bonus Al nemico Quindi iniziate a essere più debole Il nemico Riuscirà a colpirvi meglio Quando arriverete A quattro ferite critiche Che i ragazzi Guardate avanti Colpi ci vogliono Di solito Un colpo ti fa una ferita Almeno che non venga messo Uno dei risultati Uno dei bonus Come incrementa la prova Quindi prima di arrivare In fondo C'è un suo personaggio Visto il suo Terminator Quando arrivano Praticamente A quattro ferite critiche Cadranno per terra E il personaggio Sarà svenuto Potrà essere Una volta che sarà finita La battaglia Nel giro di pochi turni Recupererà Tutte le ferite lievi Che sono tagliettine Scoriazioni Però le ferite gravi Rimarranno Fino a fine avventura Quando non potrà essere Portato in ospedale E cose del genere Questa è un pochino Un'infarinatura Del gioco Ragazzi Conclusione finale Insomma A grandi righe Voi ho detto Un po' come a regolamento Perché già Sono prolissoli mio E sono logorroico Poi se no davvero Il video durerebbe 50 minuti E si fa avvicino Comunque In tutti i casi Il gioco è veramente Molto bello L'ambientazione È veramente spettacolare Però vi dico la verità L'ambientazione Secondo me Non è Cioè È fatta bene Però non è la parte Più forte del gioco Perché È troppo Cioè È l'Europa nostra Le nazioni sono estremizzate Ok Quindi Gli italiani Sono visti più come mercanti Che ladri Tra virgolette Di cui non ti puoi fidare I francesi Sono visti quelli Con il re sole Che comanda E la plebaglia Deve morire Non conta nulla Buoni a spendere Tanti sordi Per l'oro E per i bei palazzi Ma che poi alla fin fine Di concreto Non ci hanno niente Tipo I vichinghi Ve l'ho detto Sono quelli che sono visti Come ladri Razziatori Pirati Avalon Insomma è più la terra fatata Dei druidi Quindi alla fin fine L'ammettazione è la nostra È caratterizzata Alla fin fine Però Io lo avrei Lo dico sinceramente Spero di vedere Un'espansione ammentata Nei tipici caraibi Insomma Di questa ambientazione qui Però io l'avrei Io l'avrei ammentato Proprio nei caraibi veri Ora uno potrebbe dire Però lì Saresti stato troppo limitato Perché tante cose Non le potevi fare Però non è vero Perché alla fin fine Anche un'ammettazione Messa in mano ai giocatori Avrebbe potuto dire Boh Non lo so Gli olandesi Hanno vinto la guerra Dei caraibi Quindi ora L'America è stata Completamente conquistata E colorizzata Dagli olandesi Più dagli inglesi Quindi boh Non lo so Anche la Francia Ha perso la guerra Alla fin fine È un gioco di ruolo Quindi anche se Cambio un po' l'ammettazione Chi se ne frega Ma non ci arrivi mai A quei livelli lì Devi sempre essere Raccluso nel contesto Che ti crea Il dungeon master Io l'avrei preferito Ammentato nei caraibi veri Quindi andando a citare Magari i pirati veri Pirata Roberts James Kidd Oppure boh Altri come l'olandesi volante Però l'ammettazione È fatta bene Non mi fa gridare Al miracolo L'ammettazione del genere Non l'ho vista originalissimo Ammettiamo così Però è molto fatta bene È molto caratterizzata Quindi su quello Non ci si può dire Assolutamente niente Il regolamento È uno spettacolo Però Per quanto da una parte Vi facilita la vita Ai giocatori Al dungeon master E crea qualcosa di unico Non è facilissimo Ad appadroneggiare Infatti avevo letto Una recensione italiana Al riguardo Che diceva È perfetto Regolamento per tutti Buttatevi sulla narrativa Ma non è facile Da padroneggiare Ci vorrà qualche partita Per capire bene Come funziona Anche perché Il giocatore Ti dice cosa fa Però dungeon master È quello che devi tenere Conto di tutto Perché laddove Al dungeon master Ragazzi fatemi una prova Di combattimento Tutti Ragazzi fatemi una prova D'agilità Tutti Qui ognuno fa una prova Differente Quindi il dungeon master Ci ha da affidare A cinque giocatori Cinque test differenti Magari no E poi più si deve ricordare Allora fermo Roberto Quanto hai fatto Tre risultati Andrea quanti ne fatti Cinque Allora te che ne fatti tre Lui cinque Va prima di te Però aspetta Il mio NPC Ne ha fatti sette Quindi va prima di Andrea E Giulio va dopo Cioè Capito C'è un attimino Da padroneggiare Infatti le scene Le azioni Durano tanto Qui non si parla Di turni Ok Finito il turno Turno successivo Si parla di scene Non ci sono turni Una scena è unica Potrebbe durare anche 40 minuti di gioco Però è tutto quanto Un turno unico Quando i giocatori Hanno finito di tirare Tutti quanti i loro dadi La scena è finita E si passa Si guarda cosa succede Morirà qualcuno Ci sarà una risoluzione Del combattimento E si passa la scena dopo Quindi dimenticatevi Turni Di D&D O giochi del genere Se gli devo dare un voto A Seven Sea Li do assolutamente 9 su 10 Perché è un'ambientazione Fatta bene E qui ancora una volta Vi dimostro che non vuol dire Che magari a me Personalmente non piaccia Però che non sia Bella e caratterizzata bene Secondo me ci sta da paura Però non è che non la trovo bella L'avrei preferita altrove Se l'avessi creato io Seven Sea L'avrei creato O ne caraibi storici O ne caraibi Un po' inventati da me Ho anche scritto un romanzo All'epoca Però comunque Non in Europa Non lo so Perché non mi piace Tanto l'ambientazione europea È troppo chiusa Mettiamola così E meno Secondo me E meno Per tutti i film che abbiamo visto Alla fin fine Film di battaglia Sono zeppili Cioè capite Ti voglio dire Un po' nelle Indie Possono essere Però è difficile vedere film Di combattimenti Di pirati Cappe e spada Inventati in Europa Mi risulta a me Personalmente È pure più difficile Però l'ambientazione è bellissima Caratterizzata bene Il regolamento È un po' difficile Da padroneggiare Più che altro Al Dungeon Master Deve essere abbastanza rodato Questo non è un gioco Per un Dungeon Master Alle prime armi Per un Dungeon Master Potrebbe mettersi paura Richiuderlo E metterlo a posto Però dopo un paio Due o tre partite Ragazzi Abbiate un po' di pazienza Che il vostro Dungeon Master Impari Perché dopo due o tre partite Troverete un sistema Che non avete visto In nessun gioco Questo È basato Tutto sulla narrazione Veramente Pochi tiri di dado Quindi 9 su 10 Meritatissimo E vi ricordo Che il gioco È distribuito in Italia Da Asmode Italia E il gioco È portato in Italia Tradotto dalla Neat Games Che io ringrazio Veramente di cuore Ragazzi È un onore Collaborare con voi E grazie di cuore Poi fatemi sapere voi Se vorrete continuare A portare avanti Questa collaborazione Io spero di averlo descritto Insomma Abbastanza bene Descrivere un gioco Da tavolo Si fa veloce Un GDR ragazzi C'è troppe regole Ci vorrebbero 18 video Spero che il video Vi sia piaciuto Trovate ovviamente Il link in descrizione Per comprarlo Lo troverete anche A Luca Comics Quindi assolutamente Andate a darci un occhio Perché c'è la Neat Games E lo troverete sicuramente In vendita Spero pazzi a non portarlo E niente Fatemi sapere con un commento Cosa ne pensate In descrizione Tutti quanti i link Anche ai nostri social Ciao ragazzi Alla prossima